Dopo una settimana da incubo sotto il profilo meteorologico con neve abbondante seguita sabato da pioggia e vento a Nuoro si contano i danni. Strade allagate chiuse, cartelloni di velti, alberi abbattuti dalla furia degli elementi, frane che hanno bloccato uno degli ingressi della città. In via Segni la corsia di accesso a Nuoro poco dopo il centro commerciale di Biscolai è ancora interdetta al traffico per il crollo di una parte del costone roccioso. I detriti hanno sfondato la rete di contenimento invadendo la carreggiata. Pertanto il traffico all'ingresso della città proveniente dalla 131 viene deviato in via Manironi. Anche oggi le scuole cittadine sono rimaste chiuse per un'ordinanza del sindaco Andrea Suddu all'origine del provvedimento che segue quello firmato in occasione delle nevicate della settimana scorsa, quello di consentire ai tecnici comunali della provincia una ricognizione degli edifici al fine di accertare eventuali danni e scongiurare situazioni di pericolo per studenti e insegnanti. Ma la giornata di sabato è stata pesante per tutta la città con strada allagata dalle abbondanti piogge che sono susseguite per tutta la durata della giornata accompagnata da un forte vento. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco, dei vigili urbani, della protezione civile ma anche delle forze dell'ordine. Alcune strade sono state chiuse al traffico, la situazione in città si va normalizzando. Resta invece complicata nella provincia dove la situazione è difficile soprattutto nelle campagne con ovili isolati e raggiungibili solo con mesi speciali. I vigili del fuoco del comando provinciale di Nuoro, come mostrano le immagini girate dai pompieri, hanno utilizzato il gatto delle nevi per supportare alle vatture in difficoltà portando fieno e sgombrando le strade di accesso alle aziende.